buonasera buonasera benvenuti alla porta del mare di San Vigolo Capo dove assisteremo tra pochi secondi alla finale regionale under 16 3x3 sicilia tra la pcr messina e la vinto spalla Mazzara in maglia verde la pcr messina con numero 67 Renato Schein con numero 7 Sergio Doria con numero 23 Camillo Martelli con numero 12 Giacomo Bricuglio numero 25 Vincenzo Cristaldi numero 30 Leandro Massinelli numero 27 Nicolo Aprigliani numero 26 Stefano Sanfilippo dirigeremo la gara i signori Federico Mameli di Augusta e Federico Catalano di Medara buon divertimento a tutti per questa finale regionale under 16 3x3 della federazione basca sicilia colpe l'esercito? ecco un bel solo l'importante è che si forza te Grazie a tutti. Un punto di CR Messina, 1-0. 1-1 al conteggio, fallo di Mazzara. 2-1 per PCR Messina. 3-1 al conteggio, fallo di Mazzara. 3-2. Mazzara appena segnato. Pallo Mazzara. 3-2. 1-1 al conteggio, fallo di Mazzara. 3 pari Messina 3 Mazzara 3 Mazzara 4 Messina 3 Mazzara 4 minuti e 40 alla fine della gara di questa fine regione under 16 tra picchiere Messina e Virtus palamestero Mazzara Vabbè poi il forte qua Vabbè blocco te lo posso fare e poi io vado in penetrazione ma io vado in penetrazione ma questo fa che ci si deve essere anche Sì, lo so. Io sono nemmeno con i palazzi. Sì, la voglio. Bello, però... Cioè, nel momento c'era, poi il tiro... Ha iniziato a girare, poi la spazio è ben ritirata. Sì, lo so. Un po' guarda che troppo è... E poi quello con la mannità... E poi quello con la mannità... E poi c'è il piano. Bellissimo. A me piace troppo la mani di stop. Sesto VCR, quattro pali. Pallo Mazzara. Quattro pali per Mazzara. Zero picciare Messina. Pallo picciare Messina. Pallo picciare Messina. Un tiro libero a favore di Mazzara. Un tiro libero a favore di Mazzara. Che peggio è tutte le palle! Un uo' tutti per una sala... Un uo' tutti per una sala. Sì. Un uo' di常are... Pallo! Eh 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 eh. E poi lì non tenete t'ottometto. Grazie a tutti. 1 minuto e 10 alla fine della partita Quinteggio parziale TCR 5 a Mazzara 50 secondi 35 secondi 35 secondi 5 a 4 il punteggio per la Messina 24 Calestro e fallo per la piccola Messina 6 a 4 il punteggio 15 secondi 8 a 6 Allunga ancora TCR 7 a 4 mancano 9 secondi 2 1 0 La piccola Messina vince il tiro regionale Under 16 3 per 3 Virtus Pagastro 5 a 0 a 2 in classifica Ora musica a palla Musica a palla Musica a palla